mi devi dare pure il voto 8 e mezzo papi adesso tocca a me adesso lui dice che apri i papi vado? vai 8 e mezzo ma che 8 e mezzo? guarda qui guarda papi non è vero che è 8 e mezzo 7 e mezzo grazie ma lui non deve venire i voti non vai bene i voti e adesso dammelo te ok qui è chi è l'ave? eh vinto dai papà guardami aspetta che gli devo dichiarare tu un po' graziata aspetta tocca a me però anche tu non mi aiutavi io pensavo che mi passasse papà no 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 aspetta un attimo tipo non mio sono ancora è che sì all'io che è che è l'avevo non mi aiutavi io non mi aiutavi non mi aiutavi che è l'avevo